Ad Ossa abbiamo tenuto il 3%, quindi siamo contentissimi di questo risultato. È vero, non siamo riusciti a entrare in Consiglio Comunale, però comunque 461 persone hanno espresso la loro preferenza nei nostri confronti e quindi siamo contenti. E ora dobbiamo essere in grado di ascoltare questo dato, perché io penso che le persone che ci hanno votato lo hanno fatto perché ci hanno visto in questi due anni lavorare sul territorio, perché credono nelle nostre idee, perché ci stimano. Quello che dobbiamo essere in grado di fare ora è di rafforzarci sempre più come soggetto politico, perché il 3% ottenuto a mio avviso ci sta dicendo questo, che stiamo diventando un soggetto politico credibile, in grado di andare avanti e di poter incidere. Certo, bisogna essere, e lo siamo, consapevoli che il percorso da fare è ancora lungo, che gli obiettivi che ci poniamo sono obiettivi a lungo termine, però il coraggio e la forza che ci ha dato questo risultato sono importanti. Quindi siamo contenti, andiamo avanti, continuiamo a lottare, a portare le nostre istanze al di fuori delle istituzioni, convinti che a poco a poco stiamo crescendo.